eccoci finalmente abbiamo parlato tantissime volte del tempeh, il colo di soia con i fagioli neri è venuta qua a cambiosol, l'abbiamo presentato, abbiamo fatto un'intervista con lei ma la domanda è come si cucina e allora oggi facilissima video ricetta con tempeh in questo caso fatto di ceci vi dirico solo due accorgimenti importanti la prima è cercare di muovere il tempeh quando poi lo faremo cuocere il meno possibile nella pentola per non romperlo e la seconda cosa è che siccome oggi andiamo a fare uno spezzatino lo spezzatino è sempre più buono il giorno dopo quindi se invitate qualcuno a casa e volete fargli lo spezzatino di tempeh organizzatevi in modo che lo fate il giorno prima così il giorno dopo tutti gli aromi si concentrano e proprio diventa una roba buonissima! giuro eh! vediamo! buonissima! 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 buonissima!